Cari studenti, sono Francesco Frati, rettore dell'Università di Siena e vi invio questa clip per presentarvi brevemente l'università che ho il grande privilegio di rappresentare. L'Università di Siena è una delle università più antiche al mondo e anche una delle più prestigiose. Ci sono infatti dei documenti che attestano la sua presenza qui all'interno della città di Siena che risalgono al 1240. Evidentemente in questi quasi otto secoli di storia insieme la città e l'università si sono vicendevolmente sostenute accrescendo reciprocamente il loro prestigio internazionale. Il fatto che l'università sia inserita all'interno del tessuto cittadino da quasi otto secoli fa sì che la maggior parte degli istituti, dei dipartimenti, dei luoghi tipici dell'università si trovino all'interno del centro storico di Siena, all'interno della città murata, inframmezzati con tutti gli altri edifici e con le abitazioni del centro storico. Questo rende Siena e il suo centro storico in particolare un vero e proprio campus naturale per tutti gli studenti dell'università. Una università che oltre a garantire agli studenti del proprio territorio la possibilità di accedere a studi universitari nella stragrande maggioranza delle tradizionali discipline, quelle che un tempo si chiamavano facoltà, attira anche un gran numero di studenti dal resto d'Italia e persino dal resto del mondo. 50% dei nostri studenti infatti provengono dal di fuori della Toscana e 10% provengono dal resto del mondo. Perché studiare all'università? Studiare all'università per voi che state per conseguire il vostro diploma di scuola superiore è un modo per accrescervi prima di tutto come persone, è un modo per migliorare, è un modo per conoscere meglio il mondo ma è un modo anche per conoscere meglio voi stessi. I dati pubblicati da Alma Laurea ci dimostrano che i laureati da una qualsiasi università hanno maggiori probabilità di trovare lavoro ed hanno anche salari migliori. Ma continuare il vostro percorso formativo all'interno dell'università significa anche investire su voi stessi, sulle vostre competenze, sulle vostre vocazioni, su voi stessi come persona. Perché la conoscenza è il miglior antidoto contro l'ignoranza, contro le disuguaglianze e contro le discriminazioni. L'Università di Siena offre un gran numero di opportunità ed offre soprattutto la possibilità di vivere, come dicevo prima, in una città campus dove gli studenti e i docenti quotidianamente interagiscono e dove è possibile creare quell'ecosistema della conoscenza che rende veramente gradevole il percorso universitario. In questi giorni di emergenza nazionale, anzi mondiale per la Covid-19, l'Università ha continuato a svolgere quel ruolo, riconosciuto dal Governo, di servizio essenziale per il Paese. Ci siamo così attivati con corsi online, con la possibilità di svolgere gli esami di profitto per via telematica e con addirittura la discussione degli esami di laurea in diretta streaming. Lo abbiamo fatto perché anche noi siamo convinti che l'Università garantisce al Paese un servizio essenziale, quello della formazione dei propri giovani. E nei prossimi giorni ci attiveremo, nonostante l'emergenza, per mettere a disposizione degli studenti delle scuole superiori tutto il materiale informativo necessario per consentirvi di fare la vostra scelta, la scelta che valorizzi meglio la vostra vocazione, la scelta che vi consente meglio di perseguire il vostro sogno, quello di una laurea, quella di una professione, quello di costruire per voi stessi un futuro migliore. Vi garantisco che uno dei mattoni fondamentali per costruire il vostro futuro è quello di investire su voi stessi, sulla vostra conoscenza ed è una cosa che potete fare attraverso il percorso di studi universitario, un percorso molto diversificato in numerosi corsi di laurea che vi consentono e sono sicuro consentiranno a tutti di trovare la migliore strada possibile per permettervi di, come dicevo prima, costruire il vostro futuro. Vi auguro veramente che possiate trovare nell'Università di Siena la possibilità di sviluppare le vostre caratteristiche e sono sicuro che se sceglierete l'Università di Siena non vi pentirete mai di questa scelta.